Un sorriso per Natale Stimo sorridere Un gesto semplice, terapeutico, di quelli che non costano niente ma in grado di infondere sicurezza e serenità a chi lo riceve Un gesto spontaneo, come un sorriso quello che gli infermieri della BAT hanno voluto regalare ai pazienti in occasione delle festività natalizie Per farlo hanno utilizzato i social network ed un hashtag che in poche settimane è diventato virale Un sorriso per Natale, l'idea lanciata dal collegio Ipasvi per ricordare lo spirito e la dedizione con cui operano i professionisti in camice verde all'interno delle strutture sanitarie Noi abbiamo voluto lanciare per queste festività natalizie questo hashtag, un sorriso per Natale ed è un gesto semplice che portiamo ai nostri assistiti alla cittadinanza, ai cittadini e proprio in quei luoghi di cura in cui c'è la sofferenza in cui i cittadini si trovano ad attraversare un particolare loro momento di vita in cui appunto la salute è messa in gioco Nonostante la nostra professione in questo momento sta passando un periodo non facile il demansionamento degli infermieri le piante organiche carenti le difficoltà con la nuova legge sugli orari di lavoro che stanno portando tutti gli infermieri ad avere un attimo di sbandamento però noi vogliamo insieme con i nostri colleghi ribadire che siamo disposti a sorridere di fronte ai pazienti Un lavoro fatto di competenza, preparazione ma anche di sensibilità e attenzione particolare per il malato come quella dimostrata dai tanti infermieri che da ogni parte d'Italia stanno aderendo all'iniziativa inviando foto che le ritraggono in divisa in ogni settore dell'assistenza ambasciatori di una professione che è sempre vicina a chi ne ha bisogno con la semplicità dei gesti e non c'è gesto più rassicurante per un malato di un bel sorriso Mi saluto Arrivederci Ciao Ciao Come è venuto Grazie Grazie